Il Comitato Congiunto Comunale In questa situazione abbiamo provveduto ad evacuare alcune famiglie che hanno avuto già problemi l'anno scorso e sono alloggiate presso la locale Croce Rossa e c'è la possibilità che altri vengano investiti da questi provvedimenti vista la situazione che al momento però non presenta grossi problemi. Certamente sono situazioni difficili e impegnative che ci devono far riflettere, la prevenzione è importante e importantissima in questo senso. Il Comitato Congiunto